Orre decisive per lo stabilimento Lasme di Melfi, l'azienda dell'indotto Sata, i cui 174 operai protestano d'agosto per scongiurarne la chiusura. Dopo le manifestazioni e gli incontri regionali e nazionali senza esito positivo, scadono oggi i termini per la procedura di mobilità e potrebbe scattare licenziamento per i 174 operai. Da ieri è in corso un tavolo regionale per risolvere l'avvertenza, ma gli operai non sono d'accordo e quattro di loro, tra cui una donna, sono saliti su una piattaforma alta a 15 metri all'interno dell'azienda, ripetendo il gesto disperato messo in atto già lo scorso mese di agosto, quando in sette salinano sul tetto dello stabilimento Melfitano. Gli operai protestano contro il tavolo alla regione, convocato per il pomeriggio di ieri, volto a chiudere amministrativamente l'avvertenza. Dopo ore di confronto improduttivo tra regione, confindustria, aziende e sindacati, la riunione è stata aggiornata ad oggi. Da segnalare l'assenza al confronto della FIOM, secondo la quale per il 19 novembre è stata convocata una nuova riunione a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, la sede dove negli scorsi mesi è stata affrontata l'avvertenza. In tutta la questione, sempre assente la FIAT, che dopo aver beneficiato dei contributi regionali in Basilicata, ora si defila, lasciando gli impianti satellite al loro triste destino. Grazie.